Ciao a tutti! Siamo di nuovo ritornate qua con il... Calendario dell'avvento Sly! Oggi siamo al 7 e quindi apriremo la casella 7 Ah sì, se sentite dei fischi è perché qui non si vede perché lui scappa Non riuscite a vederlo? Non guardate il casino, eh! Mi raccomando, che covini qua sulla mano? Oh ma... Vieni mo! Dai mo! Oh signor... Il cerino mio Dove sto ad avere il mio pigiama? Andiamo... Dov'è? Scusate Ma sto cercando di farvi vedere il mio pappagallo Ovviamente Lo riesco a farvi vedere Perché è sulla mia spalla ed è un po' un casino Vieni qua sulla mano Oh ma niente No vabbè Se scende Giuro che ve lo faccio vedere Se scende Allora Voi vi chiederete Sta ditto Non so se ve lo chiederete Perché non sono sicura Allora Boh Lasciamo perdere questa parte Devo dirvi una cosa Finiamola lì Ehm... Ho fatto il video anche della sesta casella Che ho aperto ieri Ehm... L'ha fatto col mio telefono Se no che il mio telefono è un po' lento adesso a caricare Perché dice che non c'è wifi Cosa che invece non è vero Perché il mio telefono è molto stupidino E quindi Devo aspettare che si carichi In qualche modo Questo video intanto lo sto facendo con il tablet Che è più veloce Quindi non preoccupatevi Se arriva prima Il video della casella numero 7 Rispetto a quello della casella numero 6 Arriverà anche quello tranquilli Comunque vi faccio già vedere Cosa ho trovato ieri E cosa ho trovato nelle caselle precedenti Scusate la mia voce ma Ho un po' di mal di gola stamattina Allora Ieri ho trovato questo cagnolo qua Molto bello Gli ho fatto anche un collare subito Ieri che sono riuscita Eccolo È il cucciolo di Labrador Mi sembra Ed è veramente bellissimo Io lo adoro Guardate gli occhi Guardano verso su Verso in alto Guardate che tiro giù la luce Vediamo se si vede meglio Cercando Possibilmente di non fare Casino Ok ci sono riuscita Ecco Adesso si vede un po' meglio Guardate che carino Qua è Bellissimo 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 Allora comunque Il collarino L'ho fatto Dove sei? Con Un filo di quelli da ricamo Mulinet Mi sembra che sia Poi lo aggancio C'è L'ho Diciamo attorcidato Al collo del cane E gli ho fatto Due nodi E tiene abbastanza È un po' difficile Però da togliere Perché Io ancora Ci sto Cercando il modo Per toglierlo Comunque Poi Nelle altre sale precedenti Ho trovato Il puledro Arabo Oh Ah sì Il cane Penso di chiamarlo Max Però non sono sicuro Il puledro Perseus Non l'ho già detto Tante volte Poi ho trovato Le staccionate Ancora sono due L'interior ce ne sono quattro Poi Il secchio E le carote Questa è tutta la scheda Con tutto ciò che c'è Ecco E niente Andiamo ad aprire La casella numero sette Allora Vediamo se ce la faccio Se ce l'ho fatta No 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 Oddio Guardate cos'è Vediamo che cos'è Oddio È questo qui Dove sei? Eccolo È questo qua È il beauty Cavoli Non pensavo che ci fosse il beauty Sinceramente Oddio Scusate se vedete un momento la mia mano Ma Ok ce l'ho fatta Eccolo 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 È uscito Finalmente Oddio Ma cavoli È bellissimo Cacchio Andiamo dentro com'è Voglio vedere Dentro è normalissimo Vuoto Cribbio È bellissimo Si chiude anche benissimo Cavolo Cioè Sembra vero Eccolo che è sceso Checco Ecco Lui è il mio papagallo Checco Checco Saluta Checco Emo Fanno un chip Per piacere Saluta È timido Vero Checco È timido Oh Ecco Ha fischiato Vi ha salutati Mi dai bacino 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 No eh Mi dai bacino È troppo timido Si sei timido Tu checco Tantissimo Tantissimo È bellissimo Devo dire Ok Ce l'ho fatta Non pensavo che ci fosse Subito il beauty Nel sette Pensavo che ci fosse Il mangy Cioè Sì Il foraggio Ma invece penso che Adesso il foraggio Quindi sia del diciassette E il 23 Dove? No Questo è il mio pollice Scusate Qua sul 23 Penso che il foraggio Sia quassù Spero Beauty Stai in piedi Ok Adesso Mi manca solo Per completare il beauty Le spazzole Che devono essere bellissime Me lo sento Sono Sera piccoline Ma penso che siano ben definite Perché il nostro secchio Ce l'ho Dai mo Ok Ecco Lo metterò Nella zona Diciamo lavaggio Checo Cosa ci fai sul tablet? No Dovete vederlo Solo che Cioè Non potete Perché Adesso è proprio sul tablet Checo Togliti dal tablet Minimo qua Dai mo Dai Su Eccolo 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 E adesso è finito Sulla mia testa No Dai Eccolo È tornato Il mio cucciolato Il mio cucciolato E questo è ciò che Ho trovato È ciò che ho trovato Oggi il beauty Cioè Oh madonna Mi non riesco a parlare Vabbè Oggi ho trovato il beauty Veramente Molto Molto Bello Vabbè Adesso penso che Mi saluterò Perché Questo video Si è durato tantissimo Più del previsto Quindi Ecco Saluta Scusate Dove sei Ah Checo saluta Checo Saluta Bravo E beh Ci vediamo La prossima volta Cioè domani Oggi Stasera Spero di mettere Sul video Della seconda puntata E che l'altro giorno Non sono riuscita Che stavo studiando Il continuo In questi giorni Sono piena di verifiche Vabbè Ehm Ci vediamo Domani Con l'otto Che è questo Qui Piccolino Non so cosa ci sarà dentro Comunque Spero le spazzole Comunque Vabbè Grazie per la visione Ehm A presto Ciao 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 Ciao